Siamo consapevoli che la salvezza passa per Bergamo e oggi è una partita importante. Sicuramente la classifica non rispecchia quelle che sono state le nostre prestazioni perché sicuramente dovremmo avere qualche punto in più in classifica e avere una classifica un po' più tranquilla. Stadio Atleti Azzurri d'Italia, questa è Atalanta Farma, buon pomeriggio da parte. Dario Massara, il cross in mezzo, poi Manfredini in rovesciata. Ottio a Giovinco, infatti va in porta a cercare però il palo del portiere e l'etuffo di consigli sarà calcio d'angolo. Dobbiamo ottenere più palla, dobbiamo gestirla meglio perché per noi questa vittoria sarebbe veramente importante. Ancora Parma, Valdez, il cross con il destro verso Paletta. Il cross sul secondo palo, Denis. Si avvicina Carrozza, Maximo Rale se vuole, il cross in mezzo, Lucarelli doppio ripallo, Manfredini, la palla al limite, poi spazzata in calcio d'angolo. Alla fine abbiamo sofferto il secondo tempo, il primo tempo abbiamo subito un porto, ci hanno fatto gol e quindi penso sia un pareggio giusto. Andrà al cross con il sinistro, ma non in mezzo, anticipato Scelotto, poi Cigarini. E' finito il match dell'Atleti Azzurri d'Italia, è 1-1. E' finito il match dell'Atleti Azzurri d'Italia.